La Polizia Municipale è da sempre impegnata nell'attività di educazione stradale nelle scuole. Per noi è un momento molto importante, significativo e anche di gratificazione. Stare insieme ai ragazzi e ai giovani ci permette di vedere tante cose che normalmente magari non cogliamo nell'attività quotidiana e soprattutto il loro modo di vedere con la loro ingenuità e anche la loro schiettezza ci dà la possibilità sicuramente di migliorare il nostro lavoro. Anche oggi come avete potuto vedere siamo usciti con le scuole, con i ragazzi, con le varie classi per fare un giro a piedi, per vedere la segnaletica, per vedere le varie situazioni anche dai marciapiedi agli incroci, agli stop, agli stali di sosta. E credetemi, da loro abbiamo avuto tante tante momenti di valutazione positiva della nostra attività e soprattutto anche di criticità nei confronti degli automobilisti, dei ciclisti, dei pedoni di come si comportano. Per noi questo vuole dire molto e credeteci, ci gratifica e ci permette di migliorare anche la nostra attività lavorativa quotidiana.